Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Gli istituti superiori della provincia di Pescara, ad eccezione del Tito Acerbo, optano per la settimana corta. Accolta la proposta che era stata avanzata dal presidente della provincia De Martinis. Vediamo il servizio. Gli istituti superiori della provincia di Pescara adotteranno la settimana corta in aula dunque dal lunedì al venerdì. Accolta praticamente in toto la proposta avanzata nel corso di quest'estate dal presidente Ottavio De Martinis che con una apposita lettera aveva invitato i dirigenti scolastici a prendere in considerazione questa opzione. Per due motivi. Uno era per il risparmio energetico che questa comporterebbe ma non solo questo anche da un punto di vista dell'inquilamento atmosferico ridurre di una giornata alla settimana scolastica risulterebbe essere importanti e meno impattanti da questo punto di vista. Devo dire che c'è stata una grande risposta da parte dei dirigenti scolastici tant'è che quasi la totalità delle scuole hanno aderito e quindi porteranno avanti l'orario con una settimana corta. C'è il solo istituto di Titoacerbo che non ha aderito ma non perché non ritenesse giusta la soluzione ma semplicemente perché aveva preso degli impegni già con gli studenti e con i professori e quindi non ha ritenuto di dover tornare indietro. C'è grande soddisfazione perché insomma è una soluzione che potrà appunto portare giovamento a tutto il territorio. Incontri con la tua stanno consentendo di calibrare al meglio gli orari delle corse a quelli di entrata e uscita degli studenti dagli istituti in via di definizione secondo De Martinis anche la dislogazione di studenti in eccesso che si sono iscritti in due istituti il Classico e il Volta di Pescara. In un caso abbiamo già risolto perché il liceo classico che aveva avuto bisogno di 10 ore in più è stato sistemato in un istituto gestito dalle suore, di proprietà delle suore. Invece per quello che riguarda il Volta stiamo trovando una soluzione provvisoria perché anche questa è risolvibile nella misura in cui nel momento in cui i ragazzi del Marconi entreranno nel nuovo edificio, io penso nel giro di un mese e mezzo o due, i ragazzi del Volta si trasferiranno al Fuxas che è un istituto invece che abbiamo preso ancora in affitto per un anno. Diciamo che le componenti ci sono, a parte queste piccole difficoltà, tutte le componenti sono state trattate e tutte le problematiche sono state risolte. La cronaca, la Procura della Repubblica di Pescara ha chiesto l'incidente provatorio per la vicenda del rogo nella pineta d'Annunziana del 1 agosto 2021. Nel fascicolo aperto ci sono quattro indagati tra cui il sindaco di Pescara Carlo Masci e Nicola Aquilanti e poi Ciro Ferone e Fabio Canonico. Gli indagati devono rispondere di reati a vario titolo, di incendio boschivo colposo e falso ideologico. Nella richiesta la Procura, a seguito dell'indagine condotta dai carabinieri forestali di Pescara, chiede al perito di ricostruire la causa e la dinamica dell'incendio avvenuto a Pescara il 1 agosto 2021 per cui è procedimento, evidenziandone l'origine e precisando quali elementi oggettivi possano fondare la responsabilità degli indagati o di eventuali altri soggetti nella causazione dell'evento. Accerti in particolare la riconducibilità dell'incendio ad incurie nella manutenzione del tratto ferroviario posto in prossimità della pineta d'Annunziana e se il suo propagarsi possa essere causalmente collegato alla mancata adozione di misure antincendio da parte dell'ente gestore della pineta. E poi ancora sono in sensibile miglioramento alle condizioni di Simone Toni, il giovane di 28 anni di Tivo, lì è ricoverato all'ospedale dell'Aquila da sabato scorso dopo essere stato colpito da un fulmine durante una escursione insieme a due amici sul Gran Sasso. Lo si apprende dalla ASL dell'Aquila, il paziente è vigile, cosciente e i medici hanno sospeso il coma farmacologico anche se la prognosi resta tuttora riservata a seguito delle condizioni generali. Alla luce di questa positiva evoluzione i medici del reparto di rianimazione del San Salvatore nutrono un cauto ottimismo per quel che riguarda il successivo andamento del quadro generale di salute del degente. E' terminato ieri sera, a tarda ora, l'incontro tra una rappresentanza di ambulanti e l'assessore al commercio di Pescara Alfredo Cremonese per affrontare le criticità emerse nello svolgimento dei mercati rionali. Vediamo il servizio. Nelle ultime ore c'è stato un confronto con gli ambulanti di Pescara, coloro che lavorano sui mercati rionali, un confronto voluto dalla categoria per cercare di risolvere alcune problematiche emerse nelle post-pandemia. Sì, assolutamente sì, un confronto molto costruttivo, sarei dire, da parte mia la massima disponibilità come sempre ad ascoltare e cercare di risolvere tutti i problemi che eventualmente sono emersi da quella riunione. Già stamattina ho convocato una riunione con gli uffici anche alla presenza del sindaco e chiaramente l'amministrazione farà tutto quello che può fare per andare incontro agli ambulanti che rappresentano un settore importante per la nostra città. Pescara ha tanti mercati e vanno tutelati e quindi vanno ascoltati coloro che ci lavorano. Nella riunione terminata ieri sera, a tarda ora, è emerso soprattutto qualche problema, mi corregga Assessore, sul mercato del venerdì a Pescaragolli. Sì, ad essere sinceri sono emersi dei problemi di natura generale, problemi che purtroppo derivano dal fatto che c'è stata una pandemia e quindi ci sono state delle normative che abbiamo dovuto applicare, quindi spostare dei mercati più e più volte con determinate regole da rispettare. Ci sono stati anche degli interventi urbanistici, degli interventi di viabilità, ci sono tuttora degli interventi in corso anche da parte di altri enti. Pensate alla strada parco dove passerà il mezzo, la metropolitana di superficie leggera. Quindi tutte queste situazioni sicuramente hanno influito sui mercati. In alcuni casi ci sono stati degli interventi a dire degli ambulanti che sono da migliorare e l'amministrazione si è fatta parte dirigente nel convocare dei tavoli e a migliorare tutto ciò che è migliorabile. C'è la massima apertura da parte mia ma anche da parte del sindaco. Partiamo al lavoro già da subito, in questa settimana cercheremo di verificare quello che oggi rappresenta il problema più importante, cioè il mercato dei colli per verificare se lo possiamo spostare nella sede originaria. Stiamo preparando dei progetti e a breve avremo anche un confronto con le associazioni di categoria. Un ordine per 109 autobus a metano, ordinati tramite la piattaforma Consip, per un investimento complessivo di circa 26 milioni di euro. È stato questo il primo atto licenziato dal nuovo Consiglio di amministrazione della TUA, guidato da Gabriele De Angelis, che ieri si è riunito per la prima volta dalla nomina. L'inserimento nella flotta TUA dei 109 bus è previsto dal piano strategico triennale degli investimenti autorizzato dalla Regione Abruzzo. I primi 25 autobus a metano saranno a disposizione di TUA a partire dal prossimo mese di aprile con step quadrimestrali successivi di consegna. Sostituiranno i bus Euro 3 in dismissione entro la fine del 2023. Oggi, 30 agosto 2022, ricorre il centenario di una tragedia che colpì la comunità di Silvi. Nel 1922, il pullman che portava 43 componenti della banda cittadina fu investito da un treno. 11 le vittime. Stamani, la cerimonia a Chieti, nel punto dove avvenne l'impatto. Il servizio di Gianluca Centofanti. Sindaco, quando quella tragedia segnò la comunità Silvarola? Quel giorno ci fu veramente una tragedia che ha segnato la città di Silvi, soprattutto per la scomparsa di 11 membri della banda musicale della città di Silvi. Fu proprio quel 30 agosto del 1922, una ricorrenza. Oggi ci sono i 100 anni di ricorrenza a cui noi vogliamo omaggiare. Un ricordo che è importante non solo per l'intera comunità, ma per tutti quelli che danno il loro contributo con la musica a rappresentare le nostre città. Oggi lo omaggiamo non solo con la deposizione della corona, ma soprattutto con la Santa Messa a cui parteciperà il vescovo di Teramo, Leuzzi, e poi con il concerto della fanfare della Polizia di Stato sul belvedere di Silvi Alta. Sarà una giornata di forti emozioni e soprattutto di ricordo per questa immane tragedia. Noi fa piacere che ci sia persone che magari promuovano questo tipo di attività, di ricordo storico, perché per noi di Silvaroli questo è un incidente di natura epocale, avere 43 persone su un camion di cui 11 morti è significativo. Sindaco, dai racconti di questo evento apprendiamo che Chieti è stata molto solidale verso il popolo silvarolo. Sottolineo in questo caso l'anima della nostra città solidale e inclusiva, come in quell'evento anche nella celebrazione di oggi a fianco sia del mio collega sindaco Andrea Scordella che dell'intera città di Silvi. Sono 1.231 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, sono stati diagnosticati dall'esame di 1.052 tamponi molecolari e 5.475 test antigenici, il tasso di positività è pari al 18,8%, il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.631 con i tre casi odierni dei quali uno relativo a lettera a mano è comunicato soltanto oggi ma relativo ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono 745 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi scendono a 26.550, meno 63 rispetto a ieri. 140 sono i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, meno 7 rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva. Il dato in questo caso è invariato. Il Comune di Pescara ha detto sì al biodigestore per il trattamento dei rifiuti. In arrivo i primi fondi, il servizio di Paolo Renzetti. L'amministrazione comunale di Pescara ha detto sì al biodigestore per il trattamento dei rifiuti. Sindaco sono in arrivo i primi fondi per la costruzione di questo impianto. Sì, noi stiamo disegnando il futuro e non da oggi. Oggi si parla molto di energia, di necessità, di fonti alternative, di situazioni nuove. Questa è una situazione nuova per il nostro territorio. Abbiamo ottenuto già da diversi mesi un finanziamento dalla BEI, dalla Banca Europea degli Investimenti, di 35 milioni di Euro, per interventi per l'efficientamento energetico nelle scuole e per la realizzazione di un impianto di biodigestione che permetta di smaltire i rifiuti senza inquinare e con la produzione di energia. Quindi siamo al futuro. Io sono molto soddisfatto di questo. Anzi, direi orgoglioso perché oggi finalmente possiamo dire ai nostri concittadini, ma non solo a quelli di Pescara, a tutti quelli del comprensorio della provincia di Pescara che noi in un tempo relativamente breve con la realizzazione del biodigestore abbatteremo i costi dello smaltimento dei rifiuti tra il 40 e il 50%. Oggi noi paghiamo circa 130 euro a tonnellata, passeremo a 60-70 euro e pensiamo che quei 130 euro che paghiamo oggi potrebbero anche aumentare con quello che sta succedendo e lo vediamo tutti quanti. Invece con la realizzazione del biodigestore abbatteremo drasticamente questa spesa. Bollette più leggere? Bollette più leggere, perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere per i nostri concittadini. Ma soprattutto andiamo verso una nuova dimensione, perché purtroppo lo smaltimento dei rifiuti si è fatto sempre in questo territorio con le discariche e noi passiamo ad un'altra modalità che ci permetterà di smaltire tutti i rifiuti di quest'area e non soltanto di quest'area perché il biodigestore che realizzeremo potrà smaltire 60.000 tonnellate senza inquinare affatto, tant'è che questi biodigestori sono approvati da Lega Ambiente. Andiamo verso uno smaltimento che è assolutamente naturale, che produce oltretutto energia. Appuntamento imperdibile per i tanti appassionati di fumetti. Pescara Comics sbarca al Paladin Martin di Montesilvano dal 9 all'11 settembre. Vediamo. Tanti eventi, cosplay e concerti, quello di Cristina D'Avena il 10 settembre. Con al centro ovviamente il fumetto in tutte le sue declinazioni. Torna Pescara Comics and Games per una edizione, quella del 2022, che ha la location tra le principali novità, il Paladin Martin di Montesilvano dal 9 all'11 settembre. Sabato 10 ci sarà Cristina D'Avena, special guest, con la Bim Bum Bam Cartoon Band. Mentre il venerdì avremo, appunto, come possiamo vedere nei manifesti, gli Animaniacs Corp. Con uno spettacolo tema Disney. Sono un coro di 10 voci, molto molto bello, quindi io vi consiglio di venire a vedere questo spettacolo. E domenica chiuderemo con una gara cosplay, il classico cosplay contest gestito da Epicos. Negli anni abbiamo visto che il pubblico va veramente dai più piccoli ai più grandi. Quindi è un evento adatto a tutti. Il Comune di Montesilvano ha accolto subito la proposta degli organizzatori della rassegna del fumetto, che può avere anche interessanti ricadute turistiche. Questa manifestazione di carattere nazionale farà sì che la stagione venga ancora allungata. Una stagione che ricordiamo che è stata anche positiva. Quindi diciamo che anche la famiglia che è in vacanza e portare il proprio bambino all'assistere, una stagione così importante con eventi all'interno di vario genere, importante per il bambino, per noi, rafforza la nostra mission, quella del turismo per famiglie. Sono certo che spostare per organizzatore questo evento a Montesilvano è stata anche per loro una sfida, ma da quello che loro mi dicono hanno avuto un grosso risultato anche di presenze per espositore e quant'altro, tant'è che sono previste manifestazioni importanti all'interno. e siamo sicuri che sarà un grandissimo evento, come è sempre stato. Cercheremo di portarlo ancora più in alto e faremo in modo che possa essere identificabile con la città anche negli anni a seguire. È l'appuntamento classico di fine estate, molto sentito dalla marineria pescarese e la regata dei gonfaloni, giunta alla sua 27esima edizione che si terrà lungo il fiume Pescara. Questa mattina la presentazione dell'evento in programma il 3 e 4 settembre. Vediamo. La regata dei gonfaloni, ormai un classico per la marineria pescarese dell'Adriatico. Quest'anno saranno ben 21 le squadre iscritte alla manifestazione che ha il sapore della competizione, anche del sano campanilismo, ma che rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare. La prima volta della regata risale al 1995, quando l'associazione Il Maestrale immaginò questa sana gara sportiva. L'evento poi ha assunto una notorietà crescente nel bacino dell'Adriatico e in alcune edizioni ha visto anche la partecipazione di equipaggi della sponda croata. L'evento sportivo si svolge con 10 vocatori per squadra, oltre a un timoniere, i quali si sfidano sulla distanza di un miglio marino. La manifestazione, che gode del patrocinio del comune di Pescara e della regione Abruzzo, nacque da un'idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina Sud che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 edizioni fino alla sua scomparsa. Oggi il timone dell'associazione è passato al figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione, in memoria del padre Giovanni. Sono 27 le edizioni con quella che si svolgerà il 3 e 4 settembre. Iniziamo da Molfetta, Bari, Vasto, Ortona, Termoli, abbiamo Martinsicuro, abbiamo Passignano anche, Olbia, molte squadre. C'è la gara maschile, si sviluppa in un miglio marino, sarebbe fanno due giri di boa, poi c'è quella femminile, fanno solo un giro di boa, fanno mezzo miglio marino e si fa a tempi, il miglior tempo si fa in finale, semifinale, roba varia. Rispetto, amicizia con altre marinerie, questo ha lasciato mio padre, se no saremmo arrivati a 27 anni, perché la gente vuole tornare a fare sempre questa gara di Peschera, che è stata la prima, adesso fanno anche altre regate, altri porti, però la prima è stata Peschera. La regata dei Gonfaloni, quando lei si insediò, fu il primo appuntamento da assessore? Non potrò mai dimenticare la regata dei Gonfaloni, appena insediata è stato il primo evento che ho presentato. Oggi finalmente siamo arrivati alla 27esima edizione, parliamo di un evento storico che rappresenta la tradizione della marineria, quindi è giusto che come amministratore, ma soprattutto come assessore allo sport, cerco di promuovere al massimo questa splendida manifestazione e questa iniziativa all'interno della città di Pescara. Arriveranno 21 imbarcazioni da tutta Italia? Sì, un grandissimo successo, 9 sono femminili e 12 sono maschili. Sarà una vetrina d'eccezione per il nostro territorio e saremo tutti pronti a tifare le nostre squadre. Ed ora lo sport, sarà Paride Tremolata di Monza a dirigere il match della prima di campionato tra Pescara e Avellino in programma domenica prossima allo Stadio Adriatico alle ore 20 e 30. Ma queste sono anche le ultime battute di calcio mercato che chiuderà i battenti giovedì alle ore 20. Vediamo le ultime in casa Pescara nel servizio. Ultime ore di mercato e qualcosa torna a muoversi in casa Pescara. Mattinata risolutiva per il difensore Riccardo Brosco che ha trovato l'intesa col Vicenza per la buona uscita ed ora è pronto a legarsi al Pescara. Nella batteria dei centrali il difensore romano andrà a occupare la casella lasciata libera dai Lanes andato ad Avellino nell'operazione Aloi. Per Brosco si tratta di un ritorno a Pescara a distanza di oltre 10 anni. Vestì il biancazzurro nell'anno della splendida cavalcata in A con Zeman in panchina giocando 22 partite specie a inizio campionato poi qualche problema fisico che ne condizionò la stagione per poi tornare in campo nella gara della festa di Marassi contro la Sampdoria. Classe 91, cresciuto nelle giovanili della Roma Brosco poi ha condotto una solidissima carriera tutta in Serie B con 354 gettoni collezionati compresi playoff e playout con le maglie di Ternana, Latina, Carpi, Ascoli e appunto Vicenza. E tornando a Pescara per la prima volta scenderà in Serie C. Qualcosa di concreto si muove anche per l'attacco dove è tramontata l'idea dello svincolato Marco Sau ma anche quella di Alessandro Gabrielloni del Como è stato trovato l'accordo per il 24enne attaccante slovacco di proprietà dell'Ellas Verona, Liubomir Tupta che è per lo più centravanti ma può occupare anche gli alti ruoli offensivi esterno o trequartista e che nell'ultima tre stagioni ha girato l'Europa in prestito al Visla Cracovia, Sion e Slovan Liberec molto poche le reti segnate in una carriera nella quale non ha mantenuto le aspettative anche per lui sarebbe la prima volta in Serie C in attesa della stagione della svolta resta da colmare un'ultima lacuna quella del mediano basso di centrocampo resta sempre la speranza di riportare Luca Palmiero di proprietà del Napoli mentre il nome nuovo delle ultime ore è l'olandese di origini congolesi Rodney Congolo più muscolare e strutturato e dunque capace di interpretare il ruolo diversamente rispetto a Palmiero cresciuto nelle giovanili di Feyenoord e Manchester City ha poi giocato con gli olandesi dell'Eremen a Cosenza arrivato nel mercato dello scorso gennaio ha avuto un ruolo importante nella rincorsa salvezza dei Silani ma ora non rientra più nei piani del club e per il Pescara potrebbe essere una buona opportunità Punto stampa questa mattina in comune a Teramo col sindaco Gianguido D'Alberto e la commissione è preseduta dall'avvocato Gianni Gebbia e dall'altro legale Antonio Paoluzzi per confermare che la SS di Città di Teramo giocherà il campionato di promozione il primo cittadino ha ripercorso le tappe della vicenda e ha parlato anche della questione relativa allo stadio Bonolis Agna Cantagalli Sindaco, dalla Serie C alla promozione è un brutto salto però per quelle che erano state le premesse negli ultimi giorni è comunque un risultato Ma in realtà non c'è un salto dalla Serie C alla promozione perché chi era in Serie C non c'è più stiamo parlando di un altro soggetto di un'altra società che è nata in queste settimane è nata per un percorso e un progetto diverso e per dare continuità al calcio terramano come ho detto all'inizio di questa conferenza stampa oltre a ringraziarvi per l'attività che avete svolto in queste settimane come comunicazione perché era molto delicato e molto importante ieri sera si siamo svegliati in terza categoria come società città di Teramo siamo andati a dormire nella notte ieri sera in promozione nel senso che c'è stata un'interlocuzione tale per cui chi doveva valutare ha preso atto dello straordinario lavoro che è stato fatto nel corso di queste settimane per poter offrire una opportunità è un'occasione di continuità al calcio terramano con una presa di posizione da parte della federazione che io non commento ma che comunque ha fortemente fatto capire che siamo stati penalizzati dal protrarsi dei ricorsi se non ci fosse stato il ricorso al Consiglio di Stato la questione si sarebbe potuta discutere nei primi giorni del mese di agosto quando eravamo pronti a partire così come è stato per il Novara ad esempio lo scorso anno la scelta legittima è stata altra ma questo di fatto ha fatto protrarre i tempi in uno stato, in una condizione tale per cui il 26 agosto alla consegna di tutta la documentazione assolutamente legittima corretta non è stato possibile attivare l'articolo 52 per quanto riguarda la serie D e l'eccellenza e devo dire che solo il fatto di aver lavorato per avere una società che comunque deve dare e può dare continuità al calcio terramano ci ha consentito di raggiungere la prima categoria utile sotto l'eccellenza lo stadio della città di Teramo è il Bonolis è ovvio che oggi però parliamo di una condizione comunque diversa e che comunque non può che partire dall'interlocuzione con la società che è nata e che parte in un percorso che dovrà vedere il supporto da parte di tutti so che è difficile è stato difficile nel 2008 ma lì c'è stata una risposta importante da parte di tutti è lo stesso entusiasmo anche di più perché i presupposti ci sono ripeto perché c'è proprio un coinvolgimento e tutto il mondo giovanile dovranno essere replicati per supportare questo gruppo di imprenditori che si è messo in gioco ha dato conferma di voler partare avanti anche il calcio terramano nel campionato di promozione per poter trovare da qui a breve la giusta dimensione calcistica e sportiva che Teramo merita e che per le ragioni che sappiamo oggi Serie D non soddisfatto della prova dei suoi al di Tella di Vasto Girardi l'allenatore della Vastese Ferrazzoli spera che la sconfitta possa essere da lezione in vista del primo impegno di campionato a Tolentino in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo Stadio della Vittoria vediamo il servizio Mister Ferrazzoli della Vastese arriva questa sconfitta nel primo impegno ufficiale sul campo del Vasto Girardi una sconfitta di misura al termine di una partita equilibrata Sì, equilibrata dove loro hanno trovato l'episodio positivo e dove noi non abbiamo creato tantissimo abbiamo avuto solo un paio di occasioni con Calì e Busetto però sappiamo delle difficoltà che avremmo trovato perché abbiamo incontrato una squadra agguerrita che già ha giocato una partita ufficiale più di noi che ha iniziato prima di noi però ripeto ci tenevamo a fare bene non ci siamo riusciti sapendo che bisogna lavorare e migliorare molto Un secondo tempo dopo l'episodio del calcio di rigore insomma avete creato comunque poco la partita sembrava poi finita lì c'è stato anche l'episodio dell'espulsione Sì, non abbiamo mai impensierito la retrograda del Vasto Girardi poi con l'espulsione è stata un pochino ancora di più accentuata questa mancanza però ripeto anche il Vasto Girardi non aveva creato grandi pericoli ha deciso l'episodio purtroppo c'è stata l'ingenuità sul calcio di rigore e accettiamo il risultato e accettiamo i limiti e i difetti che sono venuti fuori cercando di migliorare e di lavorarci sopra perché abbiamo tanto da fare ancora Sì, questa settimana poi la settimana di preparazione alla prima di campionato questa gara più che altro è servita per le prime risposte Sì, a noi ci tenevamo a passare il turno perché la Coppa Italia è sempre piacevole passare però ripeto ci abbiamo messo impegno e volevamo riuscirci non ci siamo riusciti non disputando una grande prestazione e questo ci deve far aprire subito gli occhi in vista di quello che è la partenza del campionato perché bisogna al più presto creare mentalità e voglia di lottare su ogni campo perché sarà difficile giocare su ogni campo Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono a disposizione on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it Grazie per l'attenzione L'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6 Grazie per l'attenzione